Un aereo di linea della compagnia russa Saratova Airlines è precipitato oggi nella zona di Ramenskoye in Russia pochi minuti dopo la partenza dall'aeroporto Domodedovo di Mosca con destinazione Orska nei monti Urali. 71 le vittime, 65 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio. Secondo l'agenzia Interfax non ci sono sopravvissuti. L'aereo Nantanova N-148 sarebbe sparito dai radar subito dopo il decollo.